Buongiorno a tutti voi e grazie per avermi invitato a questo importante evento. Sono molto contento ed emozionato di essere qui. Contento perché, dal mio punto di vista, grazie a un'ottima collaborazione tra i vari team, è stato fatto un grande lavoro. Oggi inauguriamo l'unico sito del mondo che, partendo da Roccia Madre, attraverso un modernissimo impianto di trattamento e un efficientissimo impianto di produzione lastre, può vantare un ciclo completo, dalla roccia al prodotto finito. Questa iniziativa, a mio avviso, è destinata a un sicuro successo perché è contemporaneamente sia cost leader che quality leader. Sono emozionato perché ho il privilegio e l'orgoglio di essere qui in Egitto con voi, i diretti discendenti di coloro i quali, più di 4.000 anni fa, hanno lasciato all'umanità non solo opere d'arte e d'ingegno uniche e inimitabili, ma hanno anche trasmesso ai posteri un'enorme eredità culturale e di conoscenza. Tutto è partito da qui. Molti milioni di bambini, ogni anno in ogni parte del mondo, studiano con ammirazione e incredulità quanto avete fatto. E c'ero anch'io tra di loro 50 anni fa. Mi emoziona sinceramente il fatto che ogni passare dei secoli questo grande seme sia pian piano germogliato e ci abbia permesso di prosperare, pur in un difficile cammino, e di realizzare quanto oggi vediamo. Grazie ancora a tutti voi. Grazie.